E' il futuro dici La macchina con la perda di entrambi Faccio sto accadizionale dalla cima Che bucce di culo! E' vero Io spero che tu ti sei triccato un film Io l'ultima oltre ho fatto 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 Oddio Ma tu ho shottato Passa Ma ci prende adesso Te l'ha fatto una mossa molto illegale Così C'era un climax Prima mi spari 4 Attenzione Però adesso sei più 3500 Chi se ne fotte 26 bottoni 5, 6, 7, 8, mezzo 9 Che mi sta Sono venuto senza nascita Come sta il bambino? E' morto Telecronica in diretto Telecronica in diretto Vediamo VR che si accinge al refresh 7 VR Attenzione La paglia è magnanima E decide ai darmi Controlla Guardavo l'altro giorno Non ti conviene Falla questa descrizione Che si è messo bene Falla infatti Che te frega metti un nome Magari il team vince qualche premio Che buccio di merda Ha rifresciato climax E vabbè I want I want to believe forever E' un abilità attivazione Testa per tre Che buccio di culo ha parato Sembra di giocare contro Leo E l'avresti Cosa scusa? Batti 5 amore Non devi giocare contro Leo Leina Solo che tu avevi un livello in meno La vallia si è chiamata Leina Attenzione La partita entra nel Clinox Avete capito la battuta ragazzi L'avete capita ex? Blocca una tarda Blocca una tarda Amox Manda no Manda no E questo è l'ambilità Teo sembra molto fiero del suo board Per uno di livelli 3 Quanti game fai fuori? Attenzione Una domanda inaspettata 4 1 3 Riproviamo ai giustatori che vi ha fatto mentire Puoi mentire Su 4 Hai evitato a mentire sapendo di mentire No quello non Sapendo di mentire Possiamo notare queste schipose battute Non mai stai Scaduzzi Scaduzzi Non vieni meglio i ricchi Scaduzzi Scaduzzi Attenzione Saiyat autofundo Comunque si non spara 4 ma non li prende mai nessuno Però lei li spara 4 Io li ho preso A lei ci prova a sparare 4 Io li ho preso A me entrano sempre Ti ricordi Anche me quando li per la partita con le Brite No 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 in te Vabbè quale è stato No dicevo quando sparivo 4 No 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 Oh mio Dio, ha calato la bionda! La Sinon la guardiamo, la CIA ci guarda anche la... 12, 14, 11 a mezzo. E' la mia problematica però. Vediamo se Barriere Rizzaglia ha la prima di stare a tirare. Qual è la più piccola, scusate, mi è arrivato? 15 a mezzo. Io il più piccolo. La più piccola è lui, che mi chiamano tutte. Sono obbligata? Non ti applica nessuno ad attaccarmi. Puoi anche passare se vuoi. Fago uno, potrei fare stock, ma lo faccio. Chissà perché. Ma mai falli? Questa è una scelta molto strana. Oh mio Dio, ma un livello 3. Non è primaverso, primaverso. Un dito e mezzo, non cambia un cazzo. Adesso... Non è che perché lo fanno. Stavo le pronti. Vorrei fare un'altra mezzo. E tu lo stai girando, insomma. Rimuovo! Sei più piccola di 500? Sono 1500. Un 5? Un 1. Sparo 3? Un 1. Un 1. Un 1. Un 1. Ah, va meglio. Un 1. Un 1. Un 1. Sparo 3. Vediamo questi 3 danni. E parla la terza, mio Dio! Io vorrei provare a provare a chi fa il mazzo Quello è lo sparo Ma è proprio identico ad Arlo Ci sono tre Attenzione, ha parato alla prima Uno, uno Al cesso Al cesso è suo Due Ancora tutto aperto Quale devo pescare? Aspettando A tutti gli avversari E' che il cronista deve vedere E' il coro Abbastanza equilibrata 3-3 Theo e 3-1 Attenzione, ha tre climax fuori Aspettando Sono 12.05 Anche I pulotti Mentre la gente si chiederà Dov'è i bichi e quanto serve In un altro mazzo Quanto cazzo custa? Quello è i bichi Posso? Oh mio Dio Oh mio Dio Io sono da lungo Che rotino Era più rotto Con il canale Ciao Luca Ciao Luca 5-5 Ciao Luca Ciao Luca Yuki Luke Sì E lui C'è un figlio di merda Mi fa Malibu Sinistra Di davanti Tra lo Che who 3 3 3 I Dai Noi Chi Non avevi ancora? Eh Gli rimani